Fra i settori in crisi purtroppo c'è anche quello della zootecnia. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ha proclamato lo stato di agitazione che potrebbe sfociare nel blocco delle forniture di latte alle aziende di trasformazione e chiesto al governo e alle regioni Puglia la convocazione del tavolo della filiera a causa dei prezzi molto bassi di latte e carne. L'attuale prezzo del latte varia da 0,37 a 0,39 centesimi al litro e dal 1 aprile ci potrebbe essere una ulteriore riduzione che potrebbe portare il prezzo a 0,34 centesimi a fronte di un costo di produzione che oscilla dagli 0,36 a 0,38 centesimi per litro in funzione della disponibilità in azienda di foraggio, paglia e acqua. Il prezzo di vendita al consumatore del latte e dei suoi derivati invece non ha subito alcuna riduzione. Non è chiaro cosa abbia spento gli industriali trasformatori ad abbassare il prezzo pagato alla stalla. Per le carni invece non esiste mercato, in quanto la maggior parte del prodotto venduto dalle macellerie proviene dalle importazioni. Un vitello di 20 giorni di vita e con un peso di 60-70 kg viene venduto a 20 euro, ma fino a qualche mese fa veniva venduto a 100-150 euro. Le vacche di fine carriera, che fino a qualche mese fa erano vendute a circa 600 euro per capo, oggi si vendono a 2-300 euro. Inoltre la maggior parte dei vitelli sono utilizzati dalle industrie di trasformazione per produrre mangime per cani e gatti. La produzione di latte prodotto dalle mucche in tutta Italia e in tutta la regione Puglia, nella campagna 2013-2014, è stata pari a 3.512 quintali, corrispondenti ad un numero di 2.300 aziende. Oltre il 70% si trovano nelle province di Taranto e Bari. Negli ultimi tre anni c'è stata una drastica riduzione di aziende zootecniche, pari al circa del 20%. Gli allevatori che hanno contratto mutui a lungo termine per adeguarsi alle norme igienico-sanitarie per acquistare le quote di produzione, oggi non sono più in grado di onorare gli impegni presi.